Queste immagini sono del gualdese Fabio Donnini, pubblicate ieri sul portale internet You Reporter e documentano il passaggio di un lupo sulla montagna gualdese. Sono le 10 e 15 di giovedì 17 gennaio, la zona è quella del versante del monte Serrasanta, sotto l'eremo, e l'animale, che sembra aver notato la presenza umana, fugge in direzione opposta, girandosi però ogni tanto a favore di telecamera. Un documento straordinario su una montagna innevata che ieri mattina era baciata dal sole. Nel pomeriggio però il meteo è andato gradualmente peggiorando, regalando in serata una copiosa nevicata a tutta l'Umbria che però, stante le temperature sopra lo zero, non si è tramutata a valle in accumuli importanti. Nessuna reale difficoltà per il traffico e gli spostamenti in genere, seppur la macchina di allerta dei singoli comuni e della provincia di Perugia era già stata messa in allarme. In particolare erano sei, tra mezzi spargisale, spazzaneve ed auto della polizia provinciale, i veicoli dislocati lungo la zona penninica dell'Alto Chiascio, stazionanti a Gubbio, ma pronti ad intervenire in caso di emergenza. Emergenza che non c'è stata e che nei prossimi giorni sembra essere destinata a rientrare definitivamente, perché se non tornerà il sole è scongiurata anche la neve, per un graduale rialzo termico che porterà pioggia nel weekend. Grazie